e i gatti abitse al risultato è molto guardato sopra la volta ti manca ti manca ti manca i passi non puoi entrare dentro al treno no infatti c'è quello che ha diseggiato ha fatto un rango e posso fare molto no vado a vedere se stai al treno lì e non mi ha visto ho visto un buon dico raga c'è la città di un'altra condivisione di gabrix Forza droga che cazzo ho visto Cioè gli ha tirato una manata Gli ha morso la testa Era ancora dentro al treno ma l'ha grabato L'ha buttato fuori dal treno Belli No vabbè No scena più heavy che ho mai visto Ciao ragazzi a me è un po' l'unico Non c'è un po' l'unico E ho parlato Bene ho fatto la info troppo veloce Ma non mi interessa Siamo con L'OrcaWing Ecco Erci Ciao 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 Che con me ho il neppettato Sono vero fermo Prego gioco Penso di qua un abbraccio Sei morto Penso di un abbraccio Sì ma io posso dire un po' l'altra cosa Sì Iniziamo la partita Barra video Barra tutto Sì o no Oh Finalmente Finalmente Oh Finalmente Per essere più corretti Chi è il mostro si muta O non parla Per essere più corretti Chi è il mostro o si muta O non parla E' gattamente Va bene E' gattamente Anzi è bene Si muta perché ce lo portate Ok Bene io faccio quello all'inizio Faccio quello Io ho capito chi è Ma le cupi si deve mutare anche Per non sentire degli altri Dai che palla Ho già fallito Ma vabbè Aghiwagi 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 Attenzione Ma non sottovalutiamo perché Aghiwagi Aghiwagi E' una bella spina Beh si Si vede Non è mazzo E' una bella spina Oh Oh ma lì la sta No questo Questa Ma questo Questo Questa 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 No 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 Ma che succede No No ma porca No 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 Messa Perché sto restando freddo Cazzo Ok perfetto Ma porca Cattivina Ok Ok Grande Lo sottello è sta cosa Cattivina Se me lo ritrovo dietro Urlo come una checca Aaaaaaah Come me What the fuck Forca Puttana No 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 Passa No No vabbè Che stronzo Ma vabbè Cazzo Che palla Rattiva Ma forca Quella P***a Ma dove Devo Rattivare il puzzle Scusa Aiuto Vabbè Sto gioco E' tutto un bug Porca Ma raga Vi vedo tutti fermi No Mi ha ammazzato E' normale Eh ma mi ha ammazzato Igna Igna mi ha ammazzato Dai qualcuno Piano il pezzo Grazie Igna Grazie Cavolo Caprix è morto Sì Se l'ho morto Io ho una paura Che manco Dio lo sa Forse Io ti muovo le spalle No Fai sentito Quando le spalle Vediamo Ma raga Il problema E' la sentinella E' che ci sono sentinelle Ecco Si è accesa La sentinella Scappa Surprise Motherfucker Ah no 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 Dai che palle Che bello Asi quasi Cristo Voi dici Perché E' che viene da bestemmia Ho visto più sentinelle qui No Oh cazzo ho visto il mostro Sì a porca sta prendendo me Tocci tua La regga è da metà 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 Qualcuno mi deve vai fare Dai Qualcuno Dai Qualcuno Trecento di ping La regga è stato bello Basta Ma basta Ma basta Ma basta Ma basta No Ma vai Che cazzo sei Baffa culo Ma baffa culo Anzi Guardi Ti vuole ammene Ma quanti cazzo sono C'è un'orgia Diventato Sto gioco Che cazzo Ce l'ha Le palle Per essere Ma lo so Quello E ma Cacce Lo so Quello Che due Coglioni Proprio Che due palle Sì Sono Uno spawnato Ingrosso Uno spawnato Eterra lì Eh vabè Poteva andare peggio Pezzo Ragazzi Di troppo Cule La mia connessione Mi sono Ehm Eh Ehm Sapevo Sì Io Sapevo Che i cu Sapevo Che i cu Io Sapevo Che i cu Era il mostro Ragazzi Lo so Se nessuno Mette pronto Io Mi fai Mi un'azione le mani che cos'è almeno mi potete riconosce va bene vai cambiali le mani speriamo che mani metti non ho un cazzo di mano però metti qualcosa tipo queste ok così sappiamo di conoscerti anche qui pensi immagino che sta sopra il treno il treno come vuota il treno andiamo ok vai partiamo di noi va bene vai prendiamo il treno vai cazzo le palle ragazzi mutati mutati bufie ok allora ragazzi siamo a mobbino flash e ragazzi dovrò fare le chiappe ai miei amici esattamente ragazzi quindi quindi adesso cerchiamo qualcuno eccolo igne eccolo no igne no informe no igne igne ah eccolo 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 è e eccolo uważa io liostrano Ma che cosa? No, ecco la frec... E' frecchia, frecchia No, ecco... No, ecco, ecco la frecchia Ecco la... Ecco la... Ecco la... Precchia, precchia Precchio, pregno No! Cazzo! No! Cazzo! No, ecco la frecchia Vengo, vengo, inger Inge, eccolo, inger Chau! No! Cazzo, mamma Eccolo, eccolo, ingercio Eccolo, 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 eccolo Oh, mezzo No! No! Cavolo! No! Eeeh! Dov'è percai scappare, come? Come? C'è il frecch? Eccolo qua! Ok! Ok, abbiamo calcolato qualcuno, ragazzi, non so chi è, ma di cui cosa è Franz, le dico, ma dove lo metto? Ah, ok, lo posso metterlo in questo muco, eccolo, eccolo, ecco qualcuno, c'è qualcuno che sta cercando di salvare, eh, eccolo, Franz, chi fa? Agna, se ti prendo? Eccolo lì, Franz, 12, cerca le mie mani, ora lo deposito, lo deposito, lo deposito, Franz, cerca le mie mani, ora, mi tengo una trappola, mi nascondo, eccolo lì, Ora, mi mancano gli occhi, gli occhi, ma no? Hehehe, ehi, che pensi fare? Che pensi fare? che pensi di fare, che pensi di fare, che pensi di fare, che pensi di fare, no, 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 cazzo, iniziamo a essere più cattivi, questa volta, ah, ah saline, salico mio, ma, ah saline, no, boh, io prendo, oh, chiunque so sia, chiunque so sia, ecco, faccio i fossi, ora, gli prendo una cappola, chi cerca di salvarlo, oh, no, 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 cavolo, non ho fatto il tempo, cavolo, non ho fatto il tempo, eccolo, ecco, preso di nuovo, ora, lo, lo ripreso, lo rimetto, qui, faccio finita che me ne vado, vediamo un po', no, eh, 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 va a metter l'ostaggio, ecco, va a metter l'ostaggio, vediamo un po', ora, c'è qualcuno, c'è, per salvarlo, mi prendo una cappola, eccolo, 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 oh, 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 oh No! No! Eeeh! No! Francesco! Ecco qui! Ma ora mi stai già mai, Francesco! Francesco! Vieni! No! Francesco! Oh! L'ho preso! Dov'è? Oh! Francesco! Ti muppo nella miscarica! No! Francesco! Eh! Eccolo! No! No! Ah! No! Ok! Sono ancora in puglio! Eccolo! Oh! Ragazzi! Oh! 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 Ma è successo! Dai! No! Buzz di merda! Ma! 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 Che Buzz? Ma! Ma no! Oh, ma che maglio? Ma non capisco. Eh, però, ma perlomeno. Eccolo. Eh, mi spiace, ma stavolta ho perso l'amico, l'amichetto. Eh, sì. Ecco, lo trasporto in un posto. Ecco. Eccolo. Oh, fuori c'è morto. Adesso manca Inge e Wicca. Quattro, tre, due, uno. Eccolo, mi spiace, mi spiace, mi spiace, mi spiace. Eh, se non lo capisci, non lo capisci. Si va, si va, 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 Gabri, che se sei un pochino infame, hai tannelato Franz e... eh, fan timer, cioè. Gabri, ti sei perso, lasci l'urlo di Franz. Madonna, non sai cosa ti sei perso, guarda. Un urlo bellissimo ti sei perso. Mamma mia. Mamma mia. Il video è buono di concludere qua. Quindi, ragazzi, io spero che tutto il video vi sia piaciuto. Lasca un bellissimo lascio, volete anche i video su Posi Playtime. Sentimi sui social, su... se trovate questo per lei. Andate anche sul canale di Inge e anche di Franz. Anche si è chiuso. Però comunque, fateci un passo dal canale di Franz. E andate nel... e poi vi lascio, non solo il link del canale Gabri Zaskans, ma anche il link del Discord 566. non manca 6. Quindi, ragazzi, se volete farsi un... un passo sul canale, sul Discord 566. Come anche sul canale in descrizione. Quindi, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. E ciao, ragazzi! Eh, ciao a tutti! Ciao, ciao! Ciao!